Sono tornata a vivere dai miei, solo che ho due bocche in più da sfamare. La miniera sta assumendo. Non ti va di guadagnare quanto tuo padre? Allora che tipo sei? Cowboy o cowgirl? Sono una cowgirl. No, da oggi in poi no. Tu sei la figlia di Hank. Il dottore ha parlato di spettacolo sotto quei vestiti. Vi presento Bobby Sharp. Dirige lui qui ed è a corto di personale. Una con un bel personale. Niente grassone. Immagino di cadere là sotto. Non ti troveremmo mai. Trovate posti di lavoro dove non ce ne sono. Quei ragazzi non vi sono amici. Niente scherzi! Fate la finita! Riferiamo a Pearson quello che succede. Ecco le nostre vite che vuoi giocare. La signorina ha un problema e noi lo risolveremo. Grazie, signor Pearson. Abbiamo deciso di accettare le sue dimissioni con effetto immediato. Lavoro tutti i giorni come te. Ah, ora sei uguale a me. Ah no, ci sono differenze. Tu non vai a lavorare con la paura di trovare una scritta su un aperito o qualcosa di schifoso nell'armadietto. Vieni la bocca chiusa e sopporta da uomo. Mi ha aggredita. Le hai messe le mani addosso? La risposta è no. Voglio fare causa all'azienda, alla miniera. Non puoi vincere. Nessuna di quelle donne si schiererà con te. Ci sono cose da uomo e cose da donna. Considera che una sua vittoria avrà effetti su ogni azienda d'America. Che cosa si può fare quando quelli che hanno il potere abusano di chi non ne ha? Che tu vinca o perda, non ti piegare.